Benvenuti su News Flash Italia. Vi invitiamo a lasciare un like, commentare e attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati sulle ultime notizie. Grazie! I Ferragnez sono sempre al centro del gossip. Dopo la lite tra Fedez e Tony F, l'appello di Chiara Ferragni di lasciarla fuori dalle discussioni, il singolo del rapper dedicato all'ex moglie e l'arresto degli ultra rossoneri, compreso l'ex bodyguard di Federico Lucia, ora i riflettori del pettegolezzo si accendono di nuovo. La ex coppia sembra essere stata vista insieme per le strade di Milano. La segnalazione arriva da un contatto anonimo di Dejanira Marzano che su Instagram scrive. Ieri i Ferragnez sono stati visti entrare insieme dallo psicologo a Milano. Il motivo di questo incontro non è noto, ma i fan dei Ferragnez è bastato sapere che erano nella stessa stanza per sperare in un ritorno di fiamma. Nonostante le difficoltà tra Chiara Ferragni e Fedez negli ultimi mesi, i fan della coppia continuano a sperare che le cose si risolvano. Una segnalazione a Dejanira Marzano ha alimentato questo sogno. L'esperta di gossip ha reso nota un'indiscrezione da un utente anonimo. Ieri i Ferragnez sono stati visti entrare insieme dallo psicologo a Milano. Il motivo di questa visita non è chiaro e nessuno dei diretti interessati ha commentato la notizia, quindi va presa con cautela. Questa segnalazione ariaccende la speranza dei fan che sognano un lieto fine per i Ferragnez. Tuttavia è più realistico pensare che i due si siano rivolti al professionista per risolvere i loro problemi e gestire la separazione, specialmente considerate che i due si siano rivolti al professionista per risolvere i loro problemi. Grazie a tutti.